Eccoci, salutiamo il corteo che sta entrando nella piazza, siamo veramente tantissimi e tantissimi e vediamo che è una piazza possessiva, una piazza, così piena, così colorata, così rumorosa questa è la piazza che vuole dire il paese, che vuole dire il mondo del lavoro, che lo vuole cambiare è la piazza che paga le tasse e anche per questo vogliamo essere ascoltati siamo qui a difesa della Costituzione, della libertà, della democrazia per affermare i diritti di cittadinanza, per estendere i diritti del mondo del lavoro per aumentare i salari, per rinnovare i contratti collettivi nazionali, per contrastare la precarietà per chiedere investimenti sulla sanità pubblica, a sostegno di un'altra economia sociale e contrattuale che non solo è possibile, ma è necessaria e soprattutto urgente siamo qui per dire adesso basta, contro una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati che non offrono futuro ai giovani noi non ci perderemo e andremo avanti fino a quando non otterremo dei risultati per i diritti del lavoro, a difesa della Costituzione, di una società più e un po' più inclusiva siamo qui anche per affermare il valore della pace per poter affermare la libertà del lavoro, la giustizia sociale c'è bisogno della pace